Un'ottima soluzione per organizzare la biancheria grazie al portabiancheria Selector. Raccogli e dividi istantaneamente tutto il tuo bucato grazie a due portabiancheria in uno. L'elegante design lo rende molto pratico per introdurre il bucato e per estrarlo. Questo perché il coperchio è fornito di apertura ad inserimento rapido, che resta fermo quando desideri inserire il bucato. Inoltre, il coperchio può essere semplicemente messo in posizione verticale quando si desidera estrarre il bucato da lavare. Giorno di bucato? Il portabiancheria ha un sacco estraibile in cotone lavabile con due scomparti e un pratico fissaggio in velcro. Perfetto per trasportare il bucato direttamente in lavatrice. I fori di aerazione situati in fondo al contenitore proteggeranno la biancheria dall'umidità e il bordo in plastica nella parte inferiore eviterà di danneggiare il pavimento. Il portabiancheria ha un coperchio in plastica ed è disponibile in diversi colori. Il portabiancheria ha una capacità di 55 litri, è alto 63 cm, largo 45 cm e ha una profondità di 29 cm. Il suo design efficiente consente di posizionare il portabiancheria selector a filo di un muro o di un armadio e possiede inoltre un'incredibile garanzia brabanzia di 10 anni.